Nei giorni scorsi la Commissione di Vigilanza del Pubblico Spettacolo, organo composto da membri della Prefettura, Vigili del Fuoco, Asrem, Comune e Regione, tra gli altri, hanno fatto visita allo stadio di Contrada Selvapiana per verificarne le condizioni. Lo spettacolo, come possono chiaramente documentare le nostre immagini, è stato davvero pietoso e testimonia uno stato di abbandono dell'impianto una volta terminato il campionato di Lega Pro nello scorso mese di maggio. Sono sorte delle margherite spontanee che stanno raggiungendo delle vette fin troppo elevate. L'erba incolta si sta seccando inesorabilmente vista l'assenza di irrigazione. Insomma, l'impianto versa in uno stato di completo abbandono e bisognerà pur fare qualcosa da parte dei padroni della struttura, indipendentemente poi se tale struttura ospiterà o meno un campionato nei mesi a venire. Il Comune, che ha già inopinatamente ceduto le chiavi dello stadio a un carnea de Vicentino, riottenendole solo l'altro ieri, dovrà ricordarsi di essere proprietario della struttura e di dover provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione dell'impianto per evitare un completo decadimento dello stesso. Solitamente il Comune risponde che non ci sono soldi troppo ricorrente e un ritornello cui sarà possibile porre rimedio. Due membri dell'associazione Noi Siamo il Campobasso, infatti, hanno offerto disponibilità a svolgere i lavori di tosatura e irrigazione erba a titolo completamente gratuito. Qualcuno dunque offre le proprie braccia senza volere in cambio nemmeno un euro. Il Comune è pregato di dare una risposta che dovrebbe essere senza dubbio affermativa di fronte a tale gentile invito. Solo per la cronaca vogliamo ricordare che la Commissione di Vigilanza del Pubblico Spettacolo, al termine dell'ispezione effettuata in settimana, ha accordato nuovamente l'agibilità dello stadio di Selvapiana entro i limiti di capienza di 4.000 spettatori.